Musica Silvio Crisari oggi non gioca ma lo volevamo sentire un minuto in questo D1B perché ha una particolarità oggi è andato in ritiro, è andato in montagna, l'amico che sentiamo tra una seconda ti ha portato sul monte, raccontaci il miglior amico nonché sindaco di Las Vegas mi ha prelevato, me l'ha promesso e l'ha mantenuto e mi ha portato su un monte Charleston che è un monte fantastico, che è vicino un'oretta da qui, che fa 10 gradi, Vegas ne fa 50 stiamo nel deserto e fa 10 gradi esatto, fa 10 gradi, un posto meridioso, una baita, sembrava proprio una cosa romantica al massimo, un dolce così grande di cioccolato a panna che magari per la meditazione del torneo serve poco però serve tutto, l'ambiente, il relax, i cinguetti, il profumo, tutto, era tutto molto bello infatti siamo orientati qua ma andiamo a sentire il sindaco, questo ragazzo riesce a risolvere qualsiasi problema che avete a Las Vegas e in Nevada soprattutto ci proviamo, voglio dire, vivo qui da tanto ormai scelta di vita, vivi da un sacco di tempo a Las Vegas, da uno che lo vive tutti i giorni è vero che insomma rimane la Disneyland per gli adulti? sì, c'è solo un posto in cui vivrei al mondo domani se potessi, economicamente troppo costoso vorrei una villa a Capri però che non si affaccia sull'Italia ma si affaccia sull'oceano e allora costa troppo sei anche un giocatore di poker? sono anche un giocatore di poker, sì, ci pago le bollette da 5 anni quindi consideriamoci giocatori di poker le USOP le fai? sì, le faccio, ho fatto 9 eventi, solo una volta sono andato in demani però eventi piccoli, 1000-15 quindi ho fatto 3 dei due, io sono uno che poi in bolla spingo molto quindi non mi interessa fare in demani mi interessa vincere stai facendo il coaching mentale di Crisare? no, no, il main event è diverso, se vai in demani nei soldi nel main event comunque prendi 20k io ho l'indemani al 1000 per 1800 dollari, me la gioco fa due conti veloci insomma no, me la gioco ti dicevo, stai facendo il coaching di Crisare, come lo vedi? Crisare è il numero 1, come persona è il numero 1, come giocatore è il numero 2 dopo di me è grandissimo no, è fortissimo, è fortissimo, anzi oggi abbiamo fatto proprio un mental coaching e lo stato, perché sai qui un po' ci siamo bruciati negli ultimi 20 giorni parla sempre di poker siamo rilassati, un po' di montagna che a me piace tanto torniamo alla vita, torniamo alla vita torniamo alla vita reale e voglio dire, il mindset è molto importante bisogna essere tranquilli, dormire bene stasera insegnate il mindset è roba seria stasera bisteccone di brontosauro, bottiglia di chianti e si va in brada altro che mindset comunque questo è il quadretto il mindset, no il mindset praticamente chiaramente un personaggio fantastico quindi faccio il tatuaggio col suo nome questa è la banda che ci abbiamo, domani raccontiamo il torneo del ragazzo seguiamo anche l'amico per la strada di Las Vegas guarda, se io arrivo al dinner break è un miracolo perché proprio non c'ho voglia propria cercherò di impegnarmi, però ci sono dei colpi che vanno giocati io non foldo mai, perché se foldi non puoi vincere devi spingere ragazzi che siete a casa, segnatevi anche questo se foldi non puoi vincere questo è tutto, tutti ci insegnano a foldare tu nel dubbio, butta tutto dentro poi te arci e dici al dealer, che abbiamo fatto? se lui te le da tutte, vuol dire che prosegui, giusto? lo spirito è quello giusto, buona viso per tutti grazie a tutti grazie a tutti